Fratelli e sorelle carissimi, che accompagnate Gesù in questo percorso evangelico verso il compimento del mistero pasquale, mentre ascoltate la sua parola di vita, pace a voi. Anche oggi Gesù è interpellato da alcuni interlocutori. Il capitolo 22, ai versetti 15-21, ci presenta infatti il dialogo tra il Messia e alcuni discepoli dei farisei, inviati per la circostanza insieme ad un gruppo di erodiani. Versetto 16 L'invio da parte dei farisei è tendenzioso. La loro intenzione è quella di cogliere in fallo Gesù mentre pronuncia i suoi discorsi. L'accostamento poi con gli erodiani è certamente il risultato di un calcolo mirato e preciso. Gli erodiani, partigiani della dinastia di Erode, invisa ai giudei perché non di origine giudaica, erano sostenitori dei romani. Sarebbero stati i primi a riferire ai capi romani l'opinione di Gesù riguardo all'argomento tributi da versare a Cesare, l'imperatore romano. La tecnica è prima quella dell'adulazione. Vi è nel linguaggio dei discepoli farisei una sorta di invito liberatorio ad esprimersi. Su un argomento delicato, ma anche dolente. Quello del tributo dovuto all'imperatore di Roma. Il tributo infatti ricordava la sudditanza politico-militare del popolo di Israele all'impero romano. Il fatto di dover versare un tributo, che allora come oggi non suscita l'entusiasmo di nessuno, era gravato del suo significato. Israele era sotto il dominio di Roma. Proprio questo significato, periodicamente evocato dalla tassazione, suscitava tensione sociale, manifestata spesso in episodi di insurrezione, chiusi puntualmente con la violenza delle armi e con lo spargimento di sangue. Il parere di Gesù, il rabbì di Galilea, era importante, facilmente impugnabile. Si sarebbe prestato a libere interpretazioni o manipolazioni variegate. Era in realtà una sorta di trappola per far cadere Gesù in conflitto con l'autorità costituita e dunque esporlo a un'eventuale condanna. Il tutto è perfettamente intuito da Gesù, il quale, cita il testo, rispose, conoscendo la loro malizia. Il maestro ha compreso la falsità di cuore dei suoi interlocutori e li chiama ipocriti, rivelando così la loro vera intenzione. Ma non si sottrae al confronto, rientra in gioco facendosi interlocutore a sua volta. Lo fa chiedendo una moneta del tributo. Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Versetto 19 È Gesù a riprendere il suo ruolo di maestro della verità. È lui a interrogare ora i farisei. I ruoli si sono capovolti. Da interroganti i discepoli dei farisei e gli erodiani divengono interrogati. Questa immagine è l'iscrizione di chi sono. Versetto 20 La domanda di Gesù allarga il discorso sulla monetazione di Roma. Ogni imperatore al potere manifestava la sua autorità col conio della moneta. Le monete, da un versante a soggetto vario, dall'altro contenevano sempre le figie dell'imperatore di turno, con sottostante, in genere seguendo la circolarità del conio, il nome dell'imperatore stesso. Erano segno di proprietà, nonché di potere. Appartenevano all'imperatore, unico garante della ricchezza dello Stato. L'idea di Stato che noi abbiamo oggi non sussisteva a quel tempo. Lo Stato si identificava con la persona dell'imperatore, la moneta con la ricchezza personale e collettiva, segno del suo potere. Alla domanda di Gesù, di chi fossero l'immagine e l'iscrizione sulla moneta, i farisei e gli erodiani rispondono con l'evidenza. Di Cesare. La risposta di Gesù è ricca di una sapienzialità che definiremmo Salomonica. Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Versetto 21 Con queste parole Gesù dichiara e riconosce l'esistenza e la legittimità di due dimensioni dell'uomo, quella civile e quella religiosa. Il vivere in un contesto sociopolitico mette in relazione con l'autorità che lo manifesta. Accettare l'autorità significa accettare anche i benefici che provengono da questa relazione, compresa la ricchezza rappresentata dalla moneta. Gesù riconosce dunque la legittimità di un'autorità costituita alla quale va dato l'omaggio dell'obbedienza, l'osservanza delle leggi unitamente alla relazione economica che lega un'economia di un territorio e di un'autorità a quella di un altro territorio e di un'altra autorità. Tutto questo però senza pregiudizio per un'altra autorità che va altrettanto riconosciuta, quella superiore di Dio. Perciò è legittimo riconoscere l'autorità di Cesare, rappresentativa del potere civile, com'è altrettanto legittimo e doveroso riconoscere quella di Dio. La nostra umanità si relaziona con entrambe. La parola di Gesù, espressa nei termini che abbiamo appena commentato, pone la nostra attenzione su un argomento delicato e di grande attualità, con tutti i risvolti etici che esso comporta. Il cristiano è cittadino del mondo, ma contemporaneamente è costruttore del regno di Dio. L'Apostolo Paolo è lui a ricordarcelo che la nostra patria è nei cieli, ma con altrettanta verità sappiamo che il Signore ci ha chiamati ad abitare per intanto questa terra. La fatica etica del discepolo consiste nel saper conciliare le esigenze di questa cittadinanza del cielo con quelle che provengono dall'abitare la terra. La dialettica del credente si eserciterà non tanto nella ricerca di facili compromessi con la propria coscienza, ma di verità che sappiano venire incontro a scelte storiche giuste, perciò accettabili, sia da un punto di vista umano che dalla propria coscienza di cristiano. Sarà necessario, nel nome di Gesù e del suo insegnamento, ricercare piattaforme di verità, confrontate dialetticamente con tutti gli uomini di buona volontà, perseguendo il fine del bene comune. E questo, infine, è la ragione per la quale ogni cristiano, impegnandosi nella polis, la città degli uomini, fa del suo impegno un discorso autenticamente e umanamente politico. Dare a Cesare significherà essere presenti nella storia umana, con la propria identità di credenti, senza fondamentalismi né rigorismi di sorta, ma ricchi della verità e della consapevolezza di chi è chiamato, per la sua parte, a costruire il regno di Dio. Tutto questo non può che lasciarci nella meraviglia. Siamo di fronte alla bellezza di un Dio che si fida dell'uomo, di un Dio che affida alla nostra umanità la storia, perché la sua signoria, il suo regno venga, permeandola e trasformandola in storia di salvezza. Saranno le parole del Figlio Gesù ad autenticare il nostro cammino, conducendolo alla pienezza della verità. Amen.